Ragazzi un nuovo gioco, che bello! Eh, è anche molto difficile questo nuovo gioco È stra difficile da capire perché praticamente ci sono magie, ci sono robe veramente incredibili Dobbiamo distruggere Sei tu questo Capri? No, non sei tu Sono qui, sono qui, sono qui Questo non sei tu affatto, no, no, no Vai a quel paese Cosa sta succedendo? No, 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 ma se ci ammazza questo Attenzione, attenzione No, eh Forza, forza, dobbiamo distruggerlo, dobbiamo distruggerlo Ma è morto? No, non è morto affatto Non è morto affatto Continua a darci fastidio Ma come? Come si permette? Ma Dio, allora, non lo so perché come si permette Dov'è? 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 Che adesso mi distruggo Qua ci sei te, Dennis Ho dato un colpo al microfono che ci... No Esatto, ma porca miseria, adesso ti faccio fuori bastardo Niente, non avete sentito niente voi tunisiani Capri mi devi rianimare se... Come faccio? Come faccio? Scomparsa Poi rianimarmi Fatto, fatto, sì, 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 posso, posso Grazie Allora, praticamente, non inizia bene come si può vedere Ma scusate, ma loro ci sentono, Captain? Perché, cioè, si vedono certe cose... Non credo Spero di no We are recording a video on YouTube Cosa? Cosa significa? Ho detto una cosa in inglese che stiamo registrando video su YouTube Perché praticamente... Ah, capisco, capisco Esatto Praticamente dobbiamo fare... Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché qua ci fanno fuori! Eh Ci fanno fuori! Comunque non so se ci hanno sentito, probabilmente no Speriamo di no, dai Non credo Perché se ci sentono parlare, ti immagini che cringe No, infatti Ma poi loro... Oddio Ma poi non dovrebbero capire quello che diciamo Non dovrebbero, in teoria, speriamo A meno che non siano italiani Oddio Allora, attento, proteggiti Allora, forza, vieni con me Distruggiamo, distruggiamo Sì, 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 sì Perché questo qua sta spammando fuoco? Ma cosa vuole? Esatto, oddio Mannaggia a te che ti faccio fuori, schifoso Adesso vieni qua Dov'è? Dov'è? È lì, lì, lì No, sono morto No, no, aspetta che qua Sono in un combattimento Teta teta Mannaggia a te No, no, no Attento No, comunque questo qua non va bene Non va bene, così non va bene Sono morto Dobbiamo ripartire, ragazzi Ah Però così non va bene, porca troia Allora, se iniziamo Però No, no, no Perché così no Cioè, perché io prima ero capace Cioè, adesso non sono più capace Ma porca di quell'altro Questi sono quei giochi che fanno Di un incazzare nero Non è possibile Salta, no Me ne può fregare di meno Delle cazze in culo di robe Affanculo Chiudi sta merda Allora, prima di tutto Mi metto questo perché è più bello Ragazzi, vedete È così che si seleziona Praticamente doveva scegliere uno di questi cerchi Eh, sì, esatto Eh, praticamente Adesso ci lancia Vedete, eh, che spettacolo Oddio Allora, tu seguimi E mi raccomando, Gabri Sì, 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 sì Ah, sinceramente comunque Non so dove andare Eh, io neanche Proprio qua al centro Dove c'è questa casa Anche se è pericoloso, eh Io te lo sto dicendo Praticamente È strapericoloso Eh, sì, sì C'è già uno lì sotto Solo uno? Vabbè, più di uno Mmh Eh, infatti Allora Ma vabbè Veniamo qua per forza Perché adesso non Sì, sì, sì Che qua non dovrebbe esserci nessuno No? Sei sicuro? Eh, no Eh, esatto Eh, ecco c'è Ecco c'è Ecco c'è uno Appunto Mannaggia lui Mannaggia lui Eh, questo schifoso Non ti permettere mai più, sai No, no, no Oddio Ma poi mi sto facendo male da solo Ma che cosa sto facendo? Eh, io anche Mi sa Ok L'abbiamo distrutto male Aspetta, cos'è sta roba? Non lo so Una cosa strana ragazzi Io non so bene Come funzionano ste robe Comunque il guanto di fuoco Devi darlo a me immediatamente Eh, come si fa? Cosa hai fatto? Hai droppato il guanto Io ragazzi Lo sto per Cosa sto facendo? Cosa è successo? Non ne ho la più pallida idea Cos'è? Qua c'è qualcosa No, qua c'è qualcuno Gabri C'è qualcuno Eccolo E' qua E' qua No, no, no Gabri Dove sei? Dove sei? Porca miseria Non lo so Penso di averlo distrutto No, oddio Sì, sì Meno male Speriamo L'ho distrutto, vero? Sì, sì Credo di sì Gabri però puoi parlare bene Perché così non andiamo d'accordo Io e te Perché se tu mi rispondi mezz'ora dopo Poi dopo Eh, scusami, scusami Oddio Ok, perfetto Allora qua praticamente C'erano determinate cose Che possiamo prendere? Qua c'è Attenzione che potrebbe arrivare Comunque l'altro tizio Un colpo pensavo che era un altro Invece eri te Eh, eh, eh Attenzione Adesso tu Prendi quei consumabili Che praticamente ti curano Quali sono? Non lo so Quelli che trovi per terra Gabri Praticamente ci sono dei consumabili Eh, tu devi parlare bene però Mannaggia Eh, scusa, scusa, scusa Eh, allora Quindi Cosa sta succedendo qua? Ci sono un po' di cose strane Eh, l'ho notato Leggo questa programma la mente Oddio No, no, no Chi è stato? E' uno Eh, sì Mannaggia Mannaggia a lui Guarda Andiamo, andiamo Ce n'è uno lì Oh, schifoso Mannaggia a lui Forza, distruggiamolo Sì, 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 sì Dove? Ammazziamolo Ma dov'è? È là Ma poi È là, è là, è là Oh, attenzione Attenzione, raga Dobbiamo stare attenti Perché questo Questo è infido È infido Eh, anche troppo No, allora Dove? Questo è uno pro È uno pro Attenzione No, invece Invece no No, no, no No, noi siamo bravi Adesso riusciamo Adesso guarda un po' Guarda un po' Ammazziamolo Porca Io mi sono ammazzato Io sono Ma come? Una deficienza Come faccio? Sei tutti noi Sei tutti noi Non devi stare Guarda che c'è lui Che ti attacca cretino Eh, ti sto rianimando Ma se tu mi rianimi Mentre quello ti ammazza Mi spieghi che razza di senso Devi ammazzare lui Eh, non lo vedo Ma è dietro di te Ma come fai Ma come è dietro di me? Non lo vedo io Vabbè, rianimami Fatto, fatto, fatto No, vabbè Cioè, io veramente Sono scioccato Eh, scusa, scusa Ammazziamolo Mannaggia a lui Mannaggia Figlio di Guarda, non mi far dire Eh, non dire, non dire Tutti i miei poteri Mannaggia a loro Vabbè, dai, allora Adesso ce l'abbiamo fatta Chi è? C'è qualcuno, vero? Gabri Eh, oddio, no, eh Mettiamoci al sicuro Mettiamoci al sicuro Qua, qua, qua Per carità Io sto sentendo rumore comunque Non vorrei dire E io spero Eh, io anche Eh, attenzione C'è uno, c'è un tizio Dove? Devo regolarmi un attimo Le impostazioni audio Ma prima di tutto Dovemo distruggere Questo tizio qua Sì, 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 sì Ammazziamolo Forza Ma dov'è? Questo ha lo scudo però Mannaggia a lui Oh, è qua, è qua Praticamente Praticamente qua No, io non ci sto capendo più niente Gabri, tu lo devi vedere però Devi stare attento Devi vederlo Devi Eh, sì, sì Lo vedo Lo vedo ora Mannaggia a lui Forza Ok, forza Distruggilo Distruggilo Ma io sto Dov'è? Non lo vedo Ma dai, Gabri Ma sto facendo tutto io Ma che cazzo Cosa mi hai? Ma dai però Ma come fai a non vederlo? Ma scusami Se è lì Se è letteralmente lì È letteralmente Cioè era lì praticamente Come caspita fai a non vederlo? Mi fa arrabbiare ragazzi No, no, no Scusami, scusami Chi è che c'è ancora? Sei te che sta scamminando Allora praticamente adesso devo Alzare un attimo il volume Perché Ok, perfetto Allora Forza Dove andiamo? Siamo già nella zona Perfetto Allora non ci dobbiamo preoccupare Va bene Stiamo qui Quanto del ghiaccio è Io direi anche di spostarci un attimo Per far vedere ai ragazzi Come funziona Io prendo queste cose Che potenzia il mio talento Praticamente E dobbiamo ricordarci Che ci sono anche le rune Che io mi stavo pure dimenticando Eh sì, esatto Praticamente Se tu premi shift C'è una runa Anche voi Cioè nel senso Tutti noi ragazzi Non premere shift No, non premere tante volte shift Che poi magari impazzisce il computer Ed è brutto dopo È meglio di no No, infatti Ma io sto sentendo cose strane Sul mio telefono Che stanno vibrando Vabbè Ma come? No, lo so Amuleto da Oddio Non so cosa serva Vabbè Chi è? Ero io, ero io Ho sbagliato Cliccato qualcosa Io adesso lo faccio fuori ragazzi Lo faccio fuori Cioè No Datemi voi la possibilità Di farlo fuori Io guarda Guarda che non Non mi stavo tanto concentrando Sul Sull'ascoltarti Perché mi stavo concentrando Anche sul parlare Ah va bene Va bene Spero vivamente Spero vivamente Che tu stia concentrato Sul parlare Sì 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 Perché se io poi Gli sento Che hai parlato male Perché io lo sento Sai No eh Attenzione c'è uno lì C'è uno lì A nord ovest Attenzione Dobbiamo Pushiamolo forza Siamo come Sì 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 Allora forza Eh via Schifoso Non te la caverai Così facilmente Ha capito che dobbiamo Che Ah si sta proteggendo Eh cosa vuoi fare No io sono morto No vabbè No vabbè Allora questo è un Uno contro uno Schifoso Mannaggia Allora Attento Attento Fuori Forza Mannaggia lui No eh No mi ha Mi ha congelato Mi ha congelato Raga Raga forza Mannaggia Allora Dobbiamo stare attenti Niente mi ha ucciso E io anche Ah no ecco Perché sei morto te Allora però io Se sono in squadra Con te Gabri Eh scusa Però non so bene Come si gioca Sei un ring No Rosiani Mi sta facendo dire cose Mi sta facendo cose Avete capito Insomma io Vorrei dire tante cose Ma non posso Perché purtroppo No 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 Non dire Non dire Che è youtube Praticamente quel qualcuno Allora Gabri Se Questo qualcuno Ci impedisce Di fare cose Allora Non farmele dire Però Va bene Va bene Eh Se va bene Però devi stare attento Devi giocare Non è che Allora se tu Vedi Allora se tu devi guardarti Anche intorno Perché se non vedi le persone È un problema Eh lo so Lo so Eh lo sai bene Però non lo faccio Esatto Vedi eh Lo vedo Che non lo fai Ah Lo sto facendo io Oppure io Mamma mia Basta Adesso facciamo un taglio E partiamo di nuovo Dalla prossima partita Ragazzi Questa è la lobby Comunque Ah ok Ci stiamo droppando Dal cielo Praticamente È bellissimo E comunque qua C'è una persona Che si chiama Si che sta giocando Con noi Avete sentito Questo rumore Se avete sentito Questo rumore Perché praticamente C'è Gabri Che praticamente Si è mutato un attimo Perché penso Che ci sia Qualcuno Fateci sapere Se anche voi I genitori Vi rompono Vabbè scherzi Questa cosa Magari se non volete Infatti No No Insomma Ah Mi sa che c'è un tizio Cos'è che c'è qua Dove Non saprei Non saprei Comunque ricordati Gabri Che io Stavo leggermente scordando Ma praticamente Se tu Stai tanto in aria Hai più vantaggio Sulle altre persone Ah Perché Da quello che ho notato io Poi non lo so Perché praticamente Loro stanno giù E tu praticamente Hai più possibilità Di colpirlo così È vero Esattamente Quindi Più stai in alto Quindi più salti Perché tu sai Che si può fare Il salto lungo Praticamente Ah Sì Sì Tieni premuto spazio Esattamente E questo Questo saltone lungo Che tipo qua Secondo me Ho visto qualcuno Ma non so Se c'è effettivamente Qualcuno Oppure no Non lo so Mi sto Mi sto chiedendo Se è davvero così Perché sinceramente Non saprei Io non sto vedendo nessuno Per fortuna Eccomi sono qui Ho trovato Ho trovato un qualcosa Cos'hai trovato? Questo è il guanto Del vento epico No no Preferisco il guanto Del vento Che è un epico Praticamente Poi lì c'è Sì lo vedi Qua il ragazzo Dove? Ah qua Sì lì La persona che sta con noi Vabbè senti Andiamo nella zona Va bene Avevo sentito Avevo sentito una persona Ma niente Eri tu che camminavi Gabri tu stai parlando male Ma come Non volevo Stai parlando in ritardo Mi stai rispondendo in ritardo No Non volevo parlare in ritardo Esatto Non dovevi parlare in ritardo Stavi dicendo bene Non dovevi Esatto E neanche volevo Eh lo so Lo so Nemmeno volevi Però quindi Parla forte Ma Cioè Va bene Va bene Parla quando ti interpello Mannaggia te Sì 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 va bene Va bene Ok perfetto Stai attento a questo Piuttosto che stare attento al gioco Anche se muori Non me ne frega di niente Piuttosto Va bene Sì sì intanto Non ci sto capendo niente del gioco Esatto Stupido proprio Ma comunque qua ci si può Tipo disgaizzare Fra virgolette Nel senso Disgaizzare Ci si può mettere qua in questo cespuglio E fare Ah non c'è nessuno Vedete Vero Però una sola persona ci sta Mi sa Ah mi sa di sì Vabbè vieni 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 Perché qua non c'è tempo da perdere Dove Va bene Andare dal nostro compagno di squadra Anche se Allora noi praticamente ragazzi Abbiamo selezionato la squadra Perché non ci faceva selezionare le due Altrimenti avremmo giocato in duo Eh infatti Però non ce ne frega niente della squadra Perché Senza offesa Ma non c'entrano niente Le altre persone che arrivano Esatto In questa squadra Perché non c'è Capite Stiamo registrando un video Ah Che cosa è successo La tempesta si è vicina Eh ho premuto un tasto Per spai Deficiente Che tasto è vicino Shift Ah ah Quindi è la runa Dello shifting Esatto Attenzione Là c'è sì che mi sa che sta combattendo Dobbiamo andare ad assist Andiamo ad aiutarlo Povero sì che sta combattendo Allora sì Siamo con te Aspetta un attimo Che stiamo arrivando Chiaramente no Perché Poverino Adesso stiamo arrivando Sì tranquillo Mannaggia Sì sì Aiutiamolo Ok perfetto Forza Mannaggia Allora Forza Oddio Ti distruggo Eccole qua Ah no Qua c'è Dove è finito Dove è finito È morto mi sa Eh no è lì È lì È lì È lì Io stavo Mannaggia Lui Forza Dov'è Mannaggia Allora Però dobbiamo Forza Ok perfetto Eh sì 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 Ma è morto No no è ancora Ah è qua Ci sta Ci sta Ci sta Facendo del male È qua Ragazzi no Spesso scendendo di tutto Anche Anche Gabri Praticamente Sta esplodendo In mille pezzi Anche Gabri Gabri è stato ammazzato Perfetto Quando mai Non Esatto Sono morto Mi spiace Caro Gabri Ah Mannaggia Ok perfetto 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 Ok ci siamo Adesso Cosa sta succedendo Non lo so Il fin di mondo E Gabri No eh Ok perfetto Abbiamo fatto No vabbè Ma stanno arrivando tutti Non è possibile 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 Raga Cioè io sto facendo Cioè stiamo facendo Un casino con tutti quanti Però Praticamente adesso Dovrei andare Ad aiutare Gabri Però qua io mi sto Bolbottando Barbetta Aiutatemi Gabri dove sei Sono qui Sono qui Aspetta ti vedo Ti vedo Ma sei vivo Sei vivo Eh mancano 46 secondi Mi dice Ok perfetto Allora sto arrivando Tranquillo che Ci siamo quasi Se tu devi andare vai però Mi raccomando Adesso ti sto rianimando No no ma rimango Fino alla fine del video Spero di rimanere Ok perfetto Ora Attenzione Che mi sa che c'è qualcuno qua No dov'è Non lo so Avevo sentito delle robe Comunque qua dobbiamo trovare Altre protezioni Perché Altrimenti non va bene Non va bene Eh lo so Lo so Se no qua ci ammazzano Ci fanno fuori Non Se no non riusciamo a fare le cose Senza protezioni Anche ci servono gli scudetti Ma non ce li abbiamo Tipo gli scudi Non so E come si prendono Non lo so Ma voi ragazzi conoscete anche Fortnite No praticamente Ecco Che schifo Gabri non dire queste cose Che magari a qualcuno piace No a me non piace No a me non piace Lo odio Sono gusti Sono gusti chiaramente Non Eh lo so Lo so Lo so Ok perfetto Io qua ho trovato cose Che Run a scatto Ma che Vabbè Non lo so Comunque ho trovato La vita Ah Diciamo Sì Tipo le lampolle per la vita Non so come casca Ah meno male Esatto E comunque questo gioco Per chi non avesse capito Si tratta di Diciamo parla di magia Nel senso C'è la magia Ci sono le rune Ci sono le robe Eh ho notato Ho notato Esatto Speriamo che ci siano anche scudi Però Perché sarebbero utili Questi scudi E io spero che la mia tastiera Non faccia troppo casino Ragazzi Scrivete nei commenti Mi raccomando E anche la mia Eh esatto Sì Ma per Scusami Io qua non sto trovando cose Che ci stanno Eh io neanche Come Ma che che ci sta Ma scusa Ma sei tu che stai Lanciando cose strane No no Che che ci sta Ma cosa sta succedendo Qua sento qualcuno Ma è sì che Ah è qua Porca miseria Ma che caspita Ci stai scherzando Eh Cosa è successo Ma l'ho ammazzato No no Gabri Mi sto facendo male io da solo Dove sei No come Ma con le mie armi Praticamente Mi stavo facendo male Ma come No Non riesco ad Non riesco ad ammazzarlo Che schifoso No sono morto L'ho ucciso io tranquillo Tranquillo l'ho ucciso io Va bene Io sono morto Dietro di te Tranquillo Adesso ti rianima Porca miseria Questa è un parto ragazzi C'è seriamente Questo gioco è una roba pazzesca Allora adesso premo due Così Cos'è Eh Dobbiamo rianimare anche sì Forza Rianima No E come si fa Mannaggia Gabri Io veramente Ah sì sì Sto facendo Ah no Perché ho questo compagno di squadra Raga Non voglio più avere Forza prendiamo queste robe però Ci servono Va bene va bene Mi raccomando Io ti ripeto Concentrati sul parlare Perché se stai a parlare Sì 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 Eh Ok perfetto Adesso prendiamo il potenziamento Che ci serve Praticamente Eh dov'è Come si usa Ci servono per migliorare No vabbè Io l'ho preso io Il potenziamento Che ho trovato io però Ah va bene va bene Eh ma chi caspita Dov'è C'è uno Mannaggia lui Ma No Non sta succedendo Gabri Mannaggia Oddio Ma poi tu non sai mai cosa sta succedendo Ma è possibile Eh no C'è seriamente Dove è finito È qua 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 Ok allora Dovemo stare attenti Perché praticamente È solo morto di nuovo Vabbè ma Dai ma non è possibile Però è morto anche quello Mi sembra Sicuro Mi sembra di sì Credo E spero Ok Perfetto Perché l'importante È che muoia quello Ok perfetto Esatto Ti ha rivissuto Digli grazie E come si fa Non lo so Eh ancora Ma basta Ma che caspita è Ma porca miseria Ma oddio io adesso Inizio faccio Faccio la fine del mondo Faccio venire Ah No 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 Oddio Ho pochissima Oh sono morto Gabri Sono morto E dove sei Sono qua praticamente Ah ecco ti vedo Ti vedo Stai attento al tizio Che ti sta ammazzando E ma io non si Ecco sono morto pure io Cioè ragazzi Io non so Ma avete visto C'era letteralmente dietro di lui ragazzi E lui cosa ha fatto Stava lì Che cercava di rianimarmi Ma piuttosto Ma porca miseria Ma pensa a distruggere A uccidere prima il tizio Non riesco io A ucciderlo Non vuol dire niente Ti devi provare Perché devi Prenderlo e puntarlo Altrimenti Ma poi scusa Ma allora Sì scusa Puoi fare qualcosa Allora andiamo noi da lui Andiamo andiamo Prima stai dietro Perché prima devo rianimarmi ovviamente Eh lo so Ah tu stai rianimando Esatto Sì 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 Grazie mille Se stai vedendo questo video Sei molto gentile Perdonami Ah no Rianimato prima Vabbè dai Comunque mi mancano 45 secondi Quindi va bene Ok Il bello è che puoi rianimarmi Anche tu adesso Non è che Ah è vero Ah Mio dio Ragazzi Datemi voi la pazienza Datemela voi Perché io non ce l'ho più la pazienza Eh l'ho notato L'ho notato Eh L'hai notato Ma se lo noti Allora fai qualcosa no Eh Prendi questa runa Prendi Sì 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 Ok però Scusate per questa cosa Che non devo minimamente fare Ma anzi no Prendo questa Che è praticamente rara Molto buona Va bene Ah attenzione la tempesta Eh dobbiamo andare Dobbiamo andare Ma dov'è Andiamo andiamo Gabri Devi seguire me Devi seguire me Ah sì 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 Va bene va bene Allora forza C'è gente qua Praticamente Stanno combattendo Ignoriamoli per ora Ignoriamoli perché Ignoriamoli sì Ah c'è gente qua Porca miseria Ma che cosa sta succedendo Oddio Mi sta Scatenerà la sua furia Immortale Cosa sta facendo Eh Stavo morendo io No 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 La tempesta Dovevo andare in zona Esatto Andiamo Andiamo Vieni vieni Gabri Non morire mi raccomando Eh Eh Sono morto mi sa Mi sa che sono morto Eh infatti Eh anch'io sono morto Mi sa Mi sa che sono morto anch'io Perché quello là è venuto Pen 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 Proprio così Eh infatti C'è sì che sta facendo Di tutto poverino Tranquillo che adesso Si Probabilmente non ce la fa Cioè nel senso Se ce la fa Rianimare pure me Speriamo Almeno te Cioè Se non rianima A me fa niente Cioè Non serve niente Gabri Che brutta cosa da dire Però Però devi cambiare questa cosa Cioè devi esercitare Devi giocare di più Gabri Eh Ora ho iniziato a giocarci Ho capito Anch'io Io la prima La mia prima partita Ho vinto Nella mia prima partita Esatto È vero Sì è vero Quindi praticamente puoi vincere anche tu no Comunque ci sta ignorando completamente Sì Esatto Perché Chiaramente Che schifo Eh sì No come che schifo Gabri Ti deveve Ti� è vero È il resto di video Ti devi ricordare Che siamo su youtube Gabri Ecco Quindi Magari Se siamo su youtube E la gente ci guarda Eh va bene va bene Scusa non volevo No raga è un parto Veramente con Gabriel E' vero che noi stiamo dando Stiamo dando servizio al signor Si Eh esatto esatto Ma dov'è Sì è un pro si Un pro della madonnina Ah guarda che bravo Vediamo se ci fa qualcosa Gabriel tu te ne devi andare via Ok perfetto Mi spiace Gabriel No mi sa che non riesce Ok perfetto perfetto No vabbè c'è dai No raga avete visto Cos'è appena niente E' stata niente vabbè E' stata bella Cioè io mi ha rianimato Poi sono completamente morto in due secondi Eh esatto anche io Esatto vabbè comunque è stato bello Fare questa partita Questo gioco è molto bello come avete visto Spero che voi ci abbiate capito qualcosa Per l'amor del cielo perché Io non ci ho capito quasi niente Vabbè tu sei un caso a parte Se voi non avete capito Capito potete non capire Ma Gabriel non può non capire Perché fa parte del video Deve capire Eh lo so lo so Devi capire Ok vabbè comunque Tutti quanti insieme Dovemmo dire Dovemmo premere F Per respect del tizio Si che ci ha rianimato 30 volte Che poi alla fine è morto comunque F nei commenti Mi raccomando è molto importante Per i si che ci ha rianimato tante volte Grazie si Sei stato bravissimo Mua proprio E noi ci vediamo al prossimo Iscrivetevi al canale Lasciate like Esatto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao